Stiamo trattando di un argomento alquanto serio, delicato, cioè l'inganno che oggi la cultura spersonalizzata, dico io, senza uomo perché senza Dio e quindi senza Dio e senza uomo ci propone attraverso l'idolatria del sesso, attraverso l'impero della pornografia che è un impero anche vero e proprio economico e con l'aiuto di padre Cucci, padre Giovanni Cucci, questo gesuita esperto di queste materie, stiamo comprendendo che la lussuria, cioè il sesso senza amore, la lussuria che è il vizio capitale, diventa poi anche una vera e propria dipendenza stimolata da questo bombardamento pornografico che noi abbiamo un po' da ogni parte, ma anche molte volte se non è diretta pornografia, vera e propria pornografia, comunque immagini, suggestioni, atteggiamenti, stili di vita, pensieri, letture che stimolano a vedere nell'altro semplicemente un corpo da soddisfare e mai un'anima da amare. Non so se l'ho detto altre volte, ma lo dico spesso ai miei allievi del corso di bioetica, dico che qual è la differenza tra sesso e amore? Che il sesso è un corpo senza anima, l'amore è un corpo con l'anima, che il sesso è fine a se stesso, l'amore invece è finalizzato ad altro amore, è finalizzato a donarmi, è finalizzato alla vita, ma la pornografia diventa veramente anche un segnale, una persona che è dipendente da internet, una persona che è dipendente dalla pornografia, ha qualche cosa che non va, ha qualche problemino dentro. Ma ascoltiamo quello che dice padre Cucci, padre Cucci dice che la pornografia rivela grandi paure nell'ambito affettivo, perché conduce alla fuga dalle difficoltà legate a una relazione reale e stabile e a rifugiarsi in una fantasia irreale ma rassicurante. E sì, mentre il rapporto di coppia, il rapporto tra marito e moglie, il rapporto tra due fidanzati presuppone una relazione, quindi presuppone degli impegni, presuppone anche dell'attese, perché bisogna sapere attendere il tempo giusto per donarsi anche attraverso il corpo, mentre una relazione presuppone anche delle responsabilità. La pornografia non presuppone questo impegno. E quindi dice bene padre Cucci quando attesta che chi è dipendente dalla pornografia manifesta dei veri e propri vuoti nell'ambito affettivo. Ambito affettivo, quando bene possiamo fare se sappiamo educare i nostri ragazzi all'amore e quando male possiamo fare quando invece non li educhiamo all'amore ma al semplice corpo. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!